Appena terminata la conferenza stampa di presentazione della prima Fashion Week a Reggio Calabria. Come Camera Nazionale e Giovani Fashion Designer abbiamo puntato su Reggio Calabria come capitale della nuova generazione del Merlin Italy. Possiamo dire di aver strutturato un buon calendario con vari eventi che partiranno dal 28 di maggio al 1 di giugno. Le sfilate si svolgeranno tra il 29 e il 30 di maggio con eccellenze del Merlin Italy, grandi personaggi del mondo della moda, dei brand, nuova generazione e accademi di moda. Il nostro obiettivo è quello di promuovere e sostenere i giovani artisti.